In Siria i ribelli hanno fatto sapere di aver preso il controllo dei pozzi petroliferi di Al-Homar, a est del paese. Si tratta di combattenti appartenenti al fronte al Nosra, gruppo jihadista legato ad Al-Qaeda. Le truppe del regime di Assad erano già state costrette dai ribelli a ritirarsi da quei giacimenti, ma solo per qualche giorno, a fine novembre dello scorso anno. I pozzi petroliferi si trovano a est di Dira Azur, vicino al confine con l'Iraq. Si tratta delle più grandi riserve di combustibile del regime di Damasco. I ribelli siriani si stanno riorganizzando. In un video hanno annunciato la fusione dei principali gruppi armati nel fronte islamico, ma i dissidi interni restano. Dal neonato movimento sono rimaste fuori le due principali formazioni legate ad Al-Qaeda, fronte al Nosra e l'autoproclamato si stato islamico in Iraq e Siria. Grazie a tutti.